let's go bitches oggi un breve vlog come sentite dalla voce non sono ancora diciamo non sto ancora molto bene quindi un breve vlog in cui voglio parlarvi di alcune cose per prima cosa voglio ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato al games week ed è grazie a voi se sto per fare questa cosa domani volerò a parigi per il paris games week sarò uno dei giocatori rappresenterò l'italia in questo caso sono uno degli unici giocatori italiani a essere stati convocati rappresenterò l'italia e giocherò a quello che sarà il live stream di black ops 3 la preview di code sport cioè giocheremo a black ops 3 sulla beta ovviamente quello che penso sia il vero gioco dato che è già uscito in fase cold già hanno creato i dischi lì al paris games week e giocherò assieme a crims x gun elite e tanti altri giocatori di cui non so ancora il nome ci sarà questo mega streaming alle 8 di sera su twitch.tv slash call of duty tutto verrà fatto andare avanti da esl germania io non vedo l'ora di partecipare ho avuto questa occasione grazie a voi che mi supportate a voi che ogni volta mi portate avanti e mi aiutate penso che non ci sarei mai riuscito pure perché parlando con quelli dell'activision in italia non siamo molto ben visti ormai all'estero non abbiamo i numeri non abbiamo attualmente il vero e proprio potere mediatico di farci vedere dall'estero e questa occasione che ho avuto è solo grazie a voi se power io ho il potere di poter andare a fare questo grandissimo evento e giocare con quelli che sono alcuni tra i migliori giocatori al mondo per far vedere come sarà black ops 3 giocato da quelli che sono questi giocatori del competitive far vedere come sono le modalità e ovviamente divertirmi io vi ringrazio quindi a tutti per questa opportunità che mi avete dato voi ringrazio l'activision ringrazio liquid dato che mi hanno dato questa opportunità ci si vede quindi su twitch.tv slash call of duty il 28 ottobre io vi saluto a bitches grazie ancora di cuore per tutto questo let's go grazie a tutti